Questa è la gara in queste condizioni super calme, una missa, sei soddisfatto? E' importante di trovare i loro nei top 10, e sono punti importanti per la Generale, per cui ci guardiamo avanti per le prossime gare. Do you feel that your fast speed is coming back and the results are growing up? Sono proprio sicuro che ritorna di nuovo la mia forma, come l'ho detto in questi giorni precedenti. Il giro è sempre lì, al 90% a parte una gara, per cui aspettiamo le prossime gare, soprattutto per Caselva 2020. Quindi sembra che ti avrai una bella posizione prima di finire il Natale? Spero proprio di sì, adesso ne ho fatte bellissime gare, anzi tutte nei 20, per cui sono riuscita a fare bellissimi punti, soprattutto per la Generale, per la fine stagione. Per cui posso veramente guardare in avanti e spero di curare bene qua la tappa di Francia. Ho visto i distacchi fino al primo, sono veramente stretti, per cui è tutto possibile. E' importante sparare bene perché è un poligono di tiro e qua sulla pista è difficile fare più veloce di un altro. Grazie.